Come ho i capelli? Non c'è uno specchio. Aspetti, tieni. Sono aperte. Proprio si vede che li hai lavati stamattina nella doccia di... Ma la vera domanda è come sono i miei capelli? Si vede che mi sono appena svegliato. Sono... Si vede che... Frizzantini. Che la doccia era occupata da Yoko Yamada. Ieri sera erano... Come li hai definiti ieri sera i miei capelli? Frizzantini? Frizzantini... Spiritosi forse. Che non so se è un buon modo per avere i miei... Per... Non so parlare. Eri bello. Anche adesso sei bello. Grazie Yoko. Ragazzi, allora. Io vi dico questo. Totò, che è, come tutti sappiamo, il mio idolo, diceva che un comico non può far ridere prima di mezzogiorno. E io vivo per le parole di Totò. Sappiate questo. Ok. Ah, perché abbiamo appuntamento a mezzogiorno e io ho detto arrivo un po' prima, così montiamo tutto. E sono arrivato a mezzogiorno e ho detto che sono veramente una merda. E poi... Mi risponde Yoko Yamada. Che con voce bisbigliante mi fa Sì, adesso ti apro. Ok, Giordano sta chiaramente ancora dormendo. Allora, queste sono illazioni di cui non farò commento. Bene. Direi che iniziamo. Ma che bel Chuck mi è venuto. Che applauso sicuro, signore e signori. Applauso di un vero uomo sicuro di sé. Maschio alfa. Beh, sì. Perché lui segue il corso di Andrew Tate. Quindi è così che si impara a fare di Chuck. Allora, eccoci qua. Non la prima puntata che uscirà nel 2023, ma prima puntata che registriamo nel 2023. Ma tu non svelare i nostri segreti del Dio 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 Dio. Sì, Yoko Yamada. Ciao Yoko. Ciao. Ciao Giordano. Ciao Alessandro. Grazie per essere qua. Grazie a voi dell'ospitalità. Guarda, per convincerla a venire qui a Hospital Podcast ho dovuto farla dormire a casa mia. Quindi, perché era un po' che provavamo a organizzare questa cosa. Esatto, ma non eravamo mai riusciti. Però sono contento che siamo riusciti a fare questa cosa. Tra l'altro, casa nuova, tu puoi confermarmi meglio della casa vecchia. Perché è rivenuta... È pazzesca. Appena sono... No, ieri sera appena... Diciamo che... Lo dico perché ho visto quella prima. Ah, ok. Cioè, magari se avessi visto solo questa, avrei detto, no, carina, ma è pazzesco. Cioè, ieri sera sono entrata in soggiorno e ho detto, cioè, tu praticamente vivevi in questo spazio. Invece adesso è solo il soggiorno. È vero, è vero. E finalmente qualcuno... Un ospite che arriva e non insulta a casa mia. Possiamo dire, started from the bottom and now we're here. Come dice Drake. Assolutamente. Possiamo dirlo. Started from... Anche se the bottom non era proprio... Esatto. Sì, the bottom al quinto piano senza scena. Era il quinto piano senza scena. Era proprio deboto. Non era proprio definibile un botto. È quello, soprattutto la pazzescagine. Appena aperto la porta aveva detto, ah, niente scale, siamo al piano terra. Perfetto, ero già felice a così. Sì, sì, sì. E ti ho stupita già così. Tra l'altro voglio far notare che per la prima volta sto bevendo del caffè a tazza di caffè. A tazza di caffè. Prima volta che succede nella storia del podcast. Esatto. Tra l'altro, diciamolo una volta per tutte queste cose. Io non bevo caffè. Tu non bevi caffè proprio in generale. Nemmeno io. Tu neanche, mai? Ma per la colite, però non mi dispiacerebbe. No, perché per la colite è la gastrite. Io sì, è per un rifuso gastrico, ma ti dico la verità, se non ce l'avessi forse non lo berrei lo stesso. Comunque non ti piace. Cioè non mi piace proprio l'effetto che mi fa, mi fa tipo quei cinque minuti di reattività e poi per il resto sono tre ore di depressione e ansia. Sì, ma perché è energia finta, cioè ti dà energia. Sì, no, no, no. Illude il tuo cervello che tu abbia dell'energia che non hai. Sì, bevo solo ginseng a volte, che in teoria fa ancora più male per il refuso gastrico, perché è come il caffè ma è anche molto più dolce, quindi proprio fa malissimo. Non lo bevo sempre perché poi in certi posti si incazzano se lo ordini, quindi ogni volta devo capire se è un posto in cui posso ordinare il ginseng senza che mi insulti. Perché si incazzano solo? Io non ho mai ordinato. Io non ne capisco un cazzo, credo che sia blasfemia in un posto, cioè tipo... A Milano? Qua a Milano si incazza. A Milano non c'è niente che una blasfemia in questa città. A Milano puoi fare qualsiasi cosa. Sì, effetti. Però... Tu scusa, cioè adesso non voglio approfondire se non vuoi su questo argomento, ma per la colite cosa vuol dire? Che se lo bevi stai male? No, mi hanno suggerito di non berlo. Ok. In realtà è una cosa strana, l'arretto colito ulcerosa, i dottori dicono che non ci sia una vera... cioè che non c'è una dieta consigliata perché varia da persona a persona. Per esempio io vedo che dovrei evitare le cose integra... cioè in realtà io ho tanti... la maggior parte dei legumi, roba integrale, speziato soprattutto, mi... un po' così. I latticini a volte sì, però c'è qualcuno che magari sta malissimo quei latticini, ma mangia pasta integrale, per cui non si sa. Ma questa cosa me l'hanno detta anche per il reflusso gastrico. Mi hanno detto ma in realtà non c'è una regola precisa. Ci sono delle cose tipo il cioccolato che al 99,9% ti farà molto male, però non c'è una regola precisa. Cioè tipo a me la cosa che mi fa peggio in assoluto è l'iceberg, l'insalata. Ma dai. Ma proprio mi fa più o mai in assoluto per il reflusso. Eppure non lo diresti, no? Anzi, è una di quelle cose che metti nei piatti per farti credere... far credere a te stesso che stai mangiando sano. Esatto. Allora vedi è proprio personale. Sì, è super personale. Però Yoko Yamada, oltre a essere una persona con la colite, è anche un'attrice e una stand-up comedian. Ottimo modo per collegare due cose. Grande Ale. Questo è il motivo per cui sei a capo di questo posto. Forse... Sono un ospite io in questa casa, lo sappiamo. No, scherzando. Cioè insomma, forse vi ricorderete io e lei anche perché è una stand-up comedian, è un'attrice. E stavamo parlando poco prima di registrare, poi ci siamo fermati, ci siamo detti no, parliamone durante la puntata, che io ero... per anni ero convintissimo di aver assistito al tuo esordio come stand-up comedian, invece quella sera, mi dici, non era la tua prima volta. Esatto, quindi parliamo dell'aprile 2018, in una serata dove si può dire io ho debuttato, mi ricordo soltanto che era un open mic, mi ricordo soltanto di Tommaso Fauro. Che debuttava anche lui quella sera. Che debuttava anche quella sera. E quella era la sera in cui c'ero io, esatto. Esatto. Che debuttava lui ma non tu. O meglio, sì, allora, intanto... ok, partiamo proprio dal principio. Sì, poi piccolissima parentesi, questa serata qua è per qualche motivo una di quelle serate di cui ancora oggi ci incontriamo e ne parliamo, cioè tipo ogni tanto Nicola Falcone mi chiama per parlare di quella serata, cioè una di quelle... con Mileto ne parliamo ancora oggi di quella serata. Ma perché è stata la primi... cioè a Venezia questo piccolo teatro, la Vugaria, è stato Nicola Falcone a creare questa rassegna. Sì, era un finto open mic. Esatto. C'era una rassegna in cui ad un certo punto facevano un open mic, ma era un finto open mic. Esattamente. Più che altro perché forse hanno deciso di premiare quello che poi è piaciuto di più, che è stato Tommaso Fauro, che è piaciuto tantissimo con il suo pezzo su Mestre che ha spaccato veramente. Esattamente, ma perché appunto Falcone ha fatto questa rassegna di comici, mi ricordo che c'era Giardina, Ravenna, Giardina l'avevo persa, l'avevo perso, è arrivato Ravenna ed è stato, io non vorrei dire una cavolata, ma il primissimo stand-up comedy in italiano che io ho visto, dal vivo, ed era proprio al teatro La Vugaria e mi ricordo che lì io stavo ridendo tantissimo, stavo tenendo la pancia, stavo male, ho detto io voglio provare questa cosa, e La Vugaria, questa cosa simpatica, che alla fine degli spettacoli ci si ritrova nello stanzino con gli artisti, gli spettatori, esatto, c'è proprio anche i cuochi che cucinano la pasta, per cui c'è quel momento molto carino dove puoi scambiare due parole con gli attori o in questo caso i comici. E mi ricordo che Falcone aveva detto a me e Tommaso, guardate che alla fine della rassegna faremo una serata tipo open mic, dai scrivetevi se volete, mi gli avevano chiesto dei consigli forse io non mi ricordo, mi ricordo ancora che lui aveva detto la prima cosa, scaricarsi Netflix, dovete guardare cosa c'è oltre l'oceano, i comici americani, inglesi, così e io ho seguito questo consiglio e li ho visti tutti da allora Tu prima di quella cosa conoscevi della comicità, tu arrivavi un minimo dal teatro, no? Allora, snì, tutti pensano che abbia fatto teatro in un qualche modo serio, ma in realtà no, io nel corso degli anni, cioè io mi sono appassionata al teatro già alla fine, durante il liceo facevo il classico corso di teatro appunto, dopodiché all'università, l'università di Ca' Foscari a Venezia proponeva dei corsi, come si chiama, dei, continuo a toccare questo cosa, dei, chiamiamoli corsi, ma proprio workshop Sì, andava bene a corsi Esatto, esatto, che duravano un giorno, due, tre, una settimana nel teatro dell'università una volta era sulle maschere, un altro su Shakespeare, però molto piccolini, molto un assaggio ok, ok, ok Però a me comunque piaceva l'idea del teatro, di stare su un palcoscenico, li ho seguiti cioè ero sempre, ero sempre lì, poi mi sono avvicinata anche ad una compagnia teatrale che è appunto quella con la quale in realtà ho veramente debuttato, loro sono i Malmadur che è una compagnia veneziana, di cui è un realtà anche mio attuale coinquilino e quindi sì, ho fatto dei, ecco, laboratori, la parola giusta è laboratori, dei laboratori teatrali, però appunto mai un vero corso, non so, di due anni ok se non che in realtà qua a Milano avevo provato, parliamo di 4-5 anni fa, sì filodramatici Paolo Grassi e il piccolo, ho fatto proprio i provini, non sono stata presa e nel frattempo poi ho scoperto la stand-up comedy, comunque stai tornando a Ravenna, io dico voglio fare questa cosa, Falcone ci consiglia, guardatevi, scrivetevi 5 minuti quindi poi all'open mic siamo io, Fauro e altra gente di cui non ricordo perché ero sì sì, perché te ero una volta infatti continuo a dimenticarmi che c'eravate di persone che conoscevo già, perché Falcone aveva chiamato tipo tre comici un po' più navigati sì per chi sta ascoltando ho fatto le virgolette con le mani ed eravamo io, Francesco Mileto e Maristella Losacco Losacco, che io proprio purtroppo vi ho rimossi, cioè nelle mie testa e questo è quanto siamo stati memorabili quella sera tutti ci ricordiamo di Yoko e Tommaso, ma loro due non ricambiano l'agitazione tu vuoi capire l'ansia della prima volta sì, no, 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 ovvio, ovvio che poi c'era stata quella frase famosa di Fauro che a volte citiamo aspetta che era atteso e aveva detto una roba tipo mi sta uscendo l'anima dal culo sì, quella me la ricordo anch'io prima di esibirsi, prima di esibirsi aveva detto mi sta uscendo l'anima dal culo una delle memorabili frasi di Tommaso Fauro me la ricordo anch'io quella, sì però appunto, tornando alla domanda iniziale, non era la premissima volta perché nel 2017 in realtà avevo già fatto una cosina, chiamiamola così che in realtà non era neanche stand up tra l'altro c'è ancora questa foto che gira in internet di me con un braccio finto da manichino e io praticamente lì mi ero inventata sta cosa di Tania io che mi innamoro di questa Tania cioè era una storia d'amore durava penso 15 minuti ma era più cabaret perché appunto c'erano questi oggetti di Shira tra cui la mano che mi accarezzava perché a me piaceva questo braccio di manichino che avevano al lavoro nel posto dove facevo la commessa che ci giochicchiavo perché si piegavano anche le dita facevo finta che mi accarezzassi ho detto qua puoi uscire una cosa carina di teatro e quindi mi ero inventata questa storia d'amore tra me e Tania e avevo fatto questi 10 minuti, 15, non mi ricordo neanche che poi in realtà non ho più rifatto perché appunto non è stand up è proprio, chiamiamolo cabaret e questo l'avevo fatto nel 2017 e sempre nel 2017 io avrei dovuto ah no ecco sempre Falcone sempre la compagnia teatrale tanto le persone non lo sanno quindi puoi mentire puoi sbagliare in effetti sì sempre a Venezia c'è nel lontano 85 quando ho cominciato che ti ho visto un attimo oddio ma se non era il 2017 sto facendo una figura di merda no perché nessuno no 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 ma in realtà conoscendo Falcone potrebbe essere che sì no sicuramente è un podcast allora era il 14 marzo no comunque lui era invitato Falcone ad una serata che si chiama Frullatorio che è lo show più riverente della laguna veneziana Frullatorio di cui fanno parte appunto anche dei ragazzi di Malmadur che è la compagnia teatrale di cui io ogni tanto faccio parte e dovevano chiamare questo Frullatorio è una sorta di David Letterman show veneziano è molto locale cioè si fanno battute che non so sul sindaco sulle problematiche di Venezia ok 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 e avevano iniziato a chiamare anche Falcone come stand up comedian ma quella sera penso perché suo figlio aveva la febbre non mi ricordo lui è da buca e Marco che appunto è il mio conculino nonché il presentatore della serata mi ha detto ma sai che c'è tu che stai scrivendo il pezzo vieni tu al posto suo e quindi in realtà la primissima volta l'ho fatto in questa situazione ah l'avevi fatto il pezzo che poi hai fatto che poi esattamente che era il pezzo su tuo padre giusto esatto su mio padre quello che poi è nato virale il famoso quello era il primo infatti secondo me poi una cosa che mi è venuta in mente che la leggenda che tu dici tutti pensano che io ho fatto tanti anni in teatro che vengo dal teatro eccetera credo che sia dovuta al fatto che quella sera tutti ti vedevamo sul palco e ci siamo detti fra noi vabbè ma non può essere che è la prima volta che sale sul palco e ci eravamo giustificati dicendo ah ma è perché viene dal teatro ecco perché ah ecco perché ha questa presenza scenica quindi viene da una profonda invidia esatto esatto invece no semplicemente è stata brava la prima volta che sei salito sul palco la famosa presenza scenica la prima volta ufficiale penso davvero io ho sempre avuto una forte presenza sul palco cioè io non ti ho mai vista comunque a parte in situazioni particolari che poi magari ne parleremo in cui c'era tensione per questioni televisive cose così ma ti ho sempre vista molto sicura sul palco molto vuol dire che allora nascondo molto bene l'ansia di certi momenti perché in effetti adesso sono cioè adesso sei tranquillo o sei nansia? allora intanto dipende devo fare l'intera ora o dieci minuti per esempio ieri che abbiamo fatto secondo me le serate migliori sono quelle collettive perché appunto la responsabilità è divisa e secondo me anche per il pubblico c'è più ritmo c'è più ok però sai che per l'ansia a volte io quando devo fare un'ora sono più tranquillo sì? non mi spiego questa cosa dipende anche dal pezzo effettivamente dipende anche se stai provando un pezzo se devo fare dieci minuti nuovi sono in ansia due giorni prima poi ovviamente quando dico più tranquillo cioè mi sto comunque cagando sotto cioè nel senso non è che dico che sono rilassato in camerino mi sto cagando sotto però a volte esatto ho molta più ansia molta più tensione quando devo fare dieci minuti nuovi piuttosto che quando devi fare il tuo spettacolo per me anche l'intero spettacolo è da quanto non lo stai facendo certo se non lo fai da due mesi e all'improvviso è una data ho ansietta e per esempio domani ho lo spettacolo intero e dopodomani un altro quindi in ansia per domani dopodomani sono tranquillissima perché l'ho appena fatto che poi a volte anche io faccio questo ragionamento poi a volte mi va stra bene la prima e il giorno dopo è un po' così stranissima sta cosa secondo me può essere perché nei dieci minuti comunque devi concentrare tutta la tua forza in quei dieci minuti devi andare molto bene in quei dieci minuti è vero nell'ora puoi giocartela un po' non è che dici il pezzo successivo magari va meglio di questo no cioè quei dieci minuti è vero se nell'ora fai cinque minuti che vanno così così poi te li recuperi cioè non è un problema sì quello secondo me sì sono concessi più montagna russa nell'ora quindi queste prime volte alla voggaria erano fatte bene comunque sì beh la voggaria quella prima volta che era l'open mic era andata bene del resto c'era stata alla fine l'applausometro per scegliere il comico migliore ha vinto Tommaso e lei è arrivata seconda Miletto terzo io neanche perché hanno scelto i primi tre quindi ma cos'è sta cafonata no no ma infatti una roba mai vista fu assolutamente una cafonata ma Falcone lo disse mi ricordo questa cosa non si fa però visto che è la nostra prima volta qua alla voggaria facciamola mai visto fare è stata fatta assolutamente con la consapevolezza che fosse una roba assolutamente becce fantastico sì 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 e Tommaso vinse quella ecco è ha vinto tipo 100 euro è vinto anche esatto dei soldi addirittura di Tommaso per i suoi esordi è stato pagato 100 euro porca pistola prima cioè quando ti hanno hai cominciato a fare stand up tu conoscevi degli stand up comedian americani o esteri o bravissimo io mi sono resa conto che per esempio a un certo punto mi compare il nome ah no aspetta cosa importantissima oltre a vedermi gli stand up inizio anche a leggere mastering stand up di Rosalie che è l'unico manuale di stand up che ho letto che effettivamente è molto utile è molto utile molto interessante è molto utile anche se hai già iniziato se lo fai da tanto bravissimo bravissimo e si chiama mastering stand up lo trovate su Amazon io non volevo dirlo ma lo trovate lì tranquillamente beh guarda altri posti è difficile ho paura che Amazon farà tanti soldi anche senza la tua pubblicità tanto vale e insomma cita diversi diversi personaggi che io quindi vado a vedermi a cercarmi su youtube per esempio e dico ma questi qua io già li seguivo quando secondo me addirittura dal liceo quindi io mi sono resa conto studiando questa cosa scrivendo il pezzo studiando il libro eccetera che sono sempre stata appassionata di comicità che erano già dentro di te quelle cose che erano già dentro di me però io allora ho questa metafora che secondo me è bellissima poi giudicherete voi vai immaginate di vivere in un mondo dove non esistono i campi da basket di paracanestro però voi in tv vedete l'NBA e vi piace moltissimo vi piace moltissimo l'NBA e però neanche sognate di poterlo fare perché è una roba che è proprio esterna al tuo mondo esterna al tuo mondo quindi per me scoprire gli open mic scoprire la rassegna di Falcone vedere Ravenna sul palco ho fatto un click lì quella sera ho detto ma quindi questa cosa si può fare ci sono degli italiani che lo fanno poi scopro gli open mic eccetera e quindi dico posso farlo anch'io mentre quando seguivo George Carlin subita su youtube al liceo dove stand up comedy una parola mai sentita neanche pensavo mi piaceva ridevo ma mai pensavo di oddio ma questa stessa anche sul palco mai pensavo ma in realtà è una cosa che ha molto senso cioè molti abbiamo fatto quel passaggio lì sì 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 esatto e infatti è stata la grande cosa che ha fatto Satiriasi all'inizio quando sono arrivati a dire noi facciamo la stand up comedy come la fanno negli altri stati perché si può fare quindi in realtà uno stacco c'è stato lì anche se alcuni dicono c'era già anni fa sì c'erano delle cose simili ma nessuno aveva mai detto facciamo la stand up comedy come la faceva George Carlin nessuno l'aveva fatto sì 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 e poi si diventa diventa reale cioè nel senso capisci che può diventare reale sì e soprattutto poi è cominciata a nascere una scena di anche in diverse città le persone hanno cominciato a creare open mic serate esatto e quindi tu poi cioè di fatto hai iniziato a Venezia quindi sei stata sì però ecco chiariamo dopo Falcone poi ci sono i figli che siete tu e Fauro esatto anche se in realtà poi a Venezia a parte la bugaria che appunto si struttura in un periodo che è quello lì e che culmina con l'open mic non c'è una scena assolutamente cioè c'è una scena di Venezia è morta a Veneta esatto ma tu sei proprio di Venezia a Venezia esatto questo volevo chiarire tu sei di Brescia tu sei di Brescia ma vivi a Venezia per studiare bravissimo quando avevo 18 anni per cui sono lì da ormai 10 oddio 11 anni ormai come mai poi hai scelto di rimanere lì ormai c'è più Veneziana che Bresciana sì io mi allora sento come vivo quasi cioè Venezia la considero come la mia città però se torno a Brescia anche perché io a Brescia non mi vivo nel centro di Brescia ma in periferia quindi non è che senta Brescia come una città ma se sento i Bresciani dico ah ok sono a casa quindi c'è quel dialetto e mi sono andata a Venezia perché beh crisi ovviamente su cosa scegliere per l'università dai mi piacciono le lingue poi questa crisi anche di di identità sul cioè non posso essere metà giapponese non sapere il giapponese internet università lingue giapponesi perché sì perché perché non la conosce cioè tuo padre è giapponese mia madre è bresciana esatto e c'era una a Bergamo ho detto no troppo vicino a casa e l'altra più rinomata era a Venezia e poi soprattutto lì hai detto cioè ok che non mi sento così tanto bresciana ma non è che adesso vado a studiare a Bergamo sono comunque bresciana sono abbastanza bresciana per non andare a Bergamo esatto esatto e c'era una anche a Napoli in realtà però ho detto no troppo lontano e comunque era Venezia ho detto dai scacchio sarebbe figo ma quindi scusa tuo padre è giapponese ma tu non avevi mai imparato il giapponese perché no esatto lui c'era l'intenzione di crescere da quando io i miei fratelli eravamo piccoli di parlarci in giapponese ma poi la cosa andava scemando a parte che in realtà soprattutto quando ero piccola io lui lavorava tantissimo ma proprio che usciva di casa al 6 del mattino e rientrava a mezzanotte cosa faceva? lui faceva inizialmente ha sempre fatto io dico la guida turistica per semplicità ma in realtà è accompagnatore turistico ok a Milano in realtà ah ok quindi lui si è trasferito a Milano inizialmente faceva il sessatore di Pulcini ma infatti mi ricordavo questa cosa è vero che me l'avevi detto lo racconta anche in un pezzo in cui lui spiega cos'è il sessatore di Pulcini il sessatore di Pulcini è colui che capisce il sesso del pulcino maschio femmina questa cosa a me per l'industria è fondamentale il fatto che ci sia un lavoro che sia specificatamente per fare questo mi affascina tantissimo quindi questo inizialmente perché infatti mi stavo chiedendo come finisci da fare la guida turistica al sessatore no prima faceva il sessatore prima faceva il sessatore e anzi è arrivato in Italia proprio per fare è stato mandato in un'industria a Brescia perché sono pochi al mondo i sessatori inizialmente sì soprattutto i giapponesi ma adesso mia sorella che studia veterinaria mi ha detto che adesso c'è addirittura un metodo per scoprirlo quando è ancora quando è ancora uomo no addirittura le macchine stanno sottituendo di brutto di brutto e poi oddio come è finito a fare l'accompagnatore sai che non ma comunque a Milano a Milano a Como anzi a Como però scusa lui è venuto in Italia per fare il sessatore di Pulcini sì ok e poi è finito a fare accompagnatore accompagnatore turistico esatto sembrava una parola brutta ma no sì no infatti accompagnatore accompagnatore non so se e poi non vorrei dire una cavolata a Como forse aveva anche un negozietto souvenir di cose giapponesi lo so perché ma forse io lì non ero ancora nata e sì certo perché lui scusate cosa sto dicendo certo lui è venuto in Italia a fare il sessatore negli anni 70 io sono nel 93 dal 70 al 90 poi ha fatto anche sì sì esatto quando perché forse abitavano proprio a Como quindi anche tuo padre alla fine sono più gli anni che ha passato a Brescia degli anni che ha passato già di dove era lui? sì certo Akita ok è una città sul mar del Giacomo ciasi cosa che non fosse Tokyo non avrei saputo assolutamente però Akita Inu i cani Akita quella razza ok sì ah sì sì sono salite vedi che alla fine comunque Akita immaginatevi questo paesino di risaie fine ok ok quindi alla fine è più cresciano anche lui ormai eh sì quanti anni aveva quando è venuto 26 allora ha vissuto più facciamo un calcolo è del 55 derivato nel 70 no ecco no non mi ricordo è qui da una ventina una ventina d'anni poco più di ventina una ventina d'anni una ventina d'anni ok e tu sei nata dove? a Brescia a Brescia a Brescia ok e quindi dicevamo sei nata a Venezia esatto 18 anni per la questione che mi sono iscrita sì ma adesso è ancora peggio perché ora posso dire comunque di non saperlo ma di avere una laurea triennale perché è una di quelle lingue che se tu non continui a scrivere parlare però scusa io ho dato l'esame di arabo all'università non so assolutamente nulla di arabo lo sapevi scrivere quindi anche dovevo scrivere ovviamente non è che mi mettevo a scrivere un racconto in arabo però sì sapevo scrivere perché poi l'arabo tu l'hai studiato immagino no avevo un concolino c'era una lingua scritta perché nel parlato parlano in realtà i vari dialetti di ogni zona del mondo arabo quindi l'arabo è una lingua scritta è una lingua che trovi nel corano è forse nei giornali forse dai sì l'arabo è una lingua scritta ok quindi non ti è rimasto così tanto non mi ricordo nulla sì perché anche l'arabo poi come il giapponese ma penso come tutte le lingue che sono completamente diverse dalla nostra sì 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 cioè devi continuare altrimenti non ero l'inglese o il francese che diceva vado là un mese lo rinfra sì ma non provavi a parlarlo con tuo padre no appunto ma in realtà mi ricordo ancora che da adolescente mi arrabbiavo dicevo parlaci solo in giapponese lui diceva ok e dopo tre giorni si scemava ma sì perché tentava di dire una cosa un po' difficile dicevo cosa e lui diceva in italiano fine cioè non e quindi sono rimasta al livello cioè non aveva la voglia di spiegarti la cosa difficile quindi poca pazienza no in realtà non è che è una persona che abbia poca pazienza però sì forse magari poca voglia in quel senso della lingua cioè lui diceva ma watashi wa cioè wa ga la particella ga lui ti rispondeva tutto casino grammatica troppo casino tutto casino e quindi beh ma anche perché il giapponese comunque è tosto ma infatti io poi in tu hai scritto anche il cinese come seconda lingua sì ma anche quello cioè per farti capire quanto era fuffa sono complicate uguali sì ma tipo che l'esame potevi darlo anche in come si dice ping cioè tu potevi o scrivere le risposte in cinese o in ping ovvero con l'alfabeto italico cioè la traslitterazione esatto con gli accenti giusti probabilmente perché vedete che erano i toni sì 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 però sì no stavo dicendo che all'università giapponese c'erano le lettrici giapponesi e mi ricordo che certe volte con quella che doveva spiegarci la grammatica prof ma qui non ho capito bene perché mettiamo la particella e non è così e basta questa è una spiegazione perché è un'altra versione di tutto casino tutto casino esatto tipo fidati sì no 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 è vero è vero fidati il giapponese è così anche dopo il russo molte volte la risposta è così è basta eh vedi e quindi tutte queste lingue che è l'arabo è così e quindi tu hai preso la trannale sembra il saldo di Aldo Giovanni e Giacomo che tipo cambia l'umidità e cambia anche la parola ed è così basta non c'è una regola grammaticale comunque penso che anche imparare l'italiano cioè la grammatica italiana sia un incubo per gli stranieri abbastanza cioè per gli stranieri un giapponese eccetera cioè sì nel senso che magari per uno spagnolo ma anche davvero l'inglese c'è più penso ai tempi quello sì però credo che il trauma sia più lingue neolatine sì è vero cioè perché diventa proprio un modo diverso di comunicare non è solo una lingua che traduci in un'altra lingua è proprio un modo diverso di approcciarsi al comunicare esatto allo scrivere sono proprio concetti diversi ma tipo il giapponese è un po' come il cinese che ha diverse cioè non so bene come funziona adesso starò dicendo delle cazzate ma ci sono diversi alfabeti ci sono diverse ci sono tre alfabeti ok due sono sillabari in realtà questo è giapponese o cinese in giapponese ok i primi due sillabari te li puoi imparare in due settimane è proprio aiueo kaki kukeko sashi sul stesso il secondo sillabario semplicemente è per le parole stranieri straniere cioè se voglio scrivere giordano giordano non lo scrivo col primo sillabario ma col secondo così si capisce subito a colpo d'occhio vedi che è una parola straniera così come gelato ice cream ice cream perché hanno tante parole sì 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 ah perché hanno tenuto molte parole estere esatto lo scrivi col secondo sillabario il casino sono i kanji cioè l'alfabeto cioè non l'alfabeto il queste centinaia di migliaia di caratteri nel senso che tu se vuoi scrivere famiglia caso puoi scriverlo col primo sillabario e sono tre sillabe ma nessuno lo scriverebbe così a meno che non sia l'elementare e lo sta imparando lo scrivi con il carattere sono due caratteri sì con i kanji i famosi kanji cioè quelli quelli proprio veri che uno associa al giapponese che vengono dal cinese quindi i cinesi usano soltanto questi ideogrammi sono quindi sì li hanno presi dai cinesi quindi tu puoi scriverla in realtà in tutti e due modi però si dovrebbe però sì anche perché altrimenti faresti proprio fatica cioè se lo scrivi se scrivi tutto col primo sillabario una sbrodolata di parole secondo me ti rallenta proprio perché a colpo d'occhio vedi i due pensa tipo come se amore lo scrivessi con un cuore ok tu apri a colpo d'occhio lo vedi subito che è quello e poi giunge la particella invece è come dire io amo te io cuoricino te ma quindi i giapponesi hanno inventato le emoji ma tanti anni fa esatto esatto come proprio distruggere una cultura intera in una frase quindi voi conversate con le emoji quindi voi conversate con le emoji mi sembra chiaro in realtà sì esatto però abbiamo la conferma di una persona possiamo rendere occidentale questa conversazione esatto possiamo sminuire tutta la cultura orientale per favore perché se no non la capisco torniamo un po' di eurocentrismo esatto che fa sempre bene l'eurocentrismo certo ha fatto solo del bene nella storia l'eurocentrismo vogliamo chiarire che eri ironico per chi sta solo ascoltando e non ha mai visto la mia e non ha visto la mia faccia ironica ero molto ironico comunque è interessante questa cosa e tu hai preso la triennale in giapponese sì per poi appunto dimenticarmi tutto perché non lo scrivo più non lo parlo più e le persone mi dicono vai non lo parli con tuo padre allora quando lo studiavo forse un po' sì a parte che appunto tornavo a Brescia una volta al mese e abbiamo questo gruppo whatsapp che si chiama casoku famiglia ho cambiato io il titolo anni fa però dove ci scriviamo in italiano o tramite emoji effettivamente quindi vedi vedi alla fine ma alla fine tutto il mondo è paese aspettiamo di fare questa sto esagerando sto esagerando e quindi e quindi perso completamente anche perché dopo dopo la laurea io crisi totale cosa faccio perché io volevo arrivare qui come è arrivata la cosa del rimango a Venezia esatto allora intanto è una città di cui mi sono innamorata nonostante le mille problematiche e ho detto le cose sono due resto e continuo con la magistrale però tutti i senpai che come i giapponesi ma voi magari leggete Mango vedete le anime qualche anime quindi sapete senpai cosa vuol dire l'ho già sentito è il collega è il più grande il più grande ma tipo un maestro io me lo immagino tipo no no maestro è proprio maestro senpai è una oddio non so se si può usarlo una guida una guida assolutamente sì insomma quelli che già mi dicevano quelli che stavano facendo la magistrale quelle che erano fatte mi hanno detto guarda serve proprio per mantenere la lingua e se soprattutto vuoi fare un percorso vuoi insegnarlo il giapponese vuoi fare traduzione allora ti serve anche quel pezzo di carta per andare avanti vuoi fare un dottorato ma se tu hai iniziato a fare questo percorso perché semplicemente volevi imparare la lingua adesso va in Giappone e quindi avevo anche il pensiero di ok boh vado là faccio lo studio là così sono immersa nella cultura e lo impari per forza e lo imparo per forza ma alla fine mi sono detta dai facciamo così ci penso un attimo mi prende un anno sabbatico e questo anno sabbatico è diventato sei mesi di commessa part time e nel mentre ho scoperto la stenda perché poi è andata così tra l'altro è stato mio padre a dirmi vabbè se intanto non sai che fare potresti portare il currino lui mi ha suggerito lui mi ha detto un collega perché visto che lui faceva accompagnatore turistico anche a Venezia capitava raramente però aveva un appoggio un'agenzia di appoggio lì che gli trovava lavoro mi ha detto guarda una mia collega mi ha detto che apre un Louis Vuitton a Venezia e subito gli ho detto ma secondo te papà io mi metto a fare la commessa di lusso è quello che ho fatto alla fine era sto mega boutique di lusso appunto in centro a Venezia si chiama Fonda con dei tedeschi è un super palazzo del 1200 usato fino a dieci anni fa come palazzo delle poste quindi i veneziani se lo ricordano come andavano lì a pagare adesso invece è un LVMH e lì tu hai detto Venezia non è tanto bella ma ci vivrei esattamente poi è arrivata la stand up col part time io riuscivo è arrivata la pandemia dove si è fermato un po' tutti esatto dove in realtà ero tornata a Brescia e che mi ricordo ancora la boutique insomma ci avevano detto ok una settimana di fiori forzato ho detto ma sai che c'è dai torno a Brescia poi questa cosa si cioè tra la settimana torno invece sono stata due mesi dai miei però vabbè tutto tutto ok bene o male è arrivato come di sempre tutto dopo eh sì eh sì perché era 2020 sì madonna certo è successo tutto molto in fretta alla fine sì mi hai appena fatto ricordare cioè da lì da lì al dal mi prendo un anno sabatico è successo tutto molto in fretta ed è successo 2020 sì 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 mi hai appena fatto ricordare mi hai appena ricordato che il mio primo video come di sempre cioè essendo in pandemia c'era quel pubblico un po' distanziato mascherina non mascherina e tra l'altro adesso mi dicevi ieri non so se vuoi già dire questa cosa però che ti sei licenziata per fare la comica full time all the way no sì facciamolo facciamolo facciamo questo annuncio io Yoko Yamada l'11 gennaio 2023 proclamo ufficialmente a tutto il mondo ufficialmente al mondo intero in mondo visione che ci guarda che mi sono licenziata ecco per insegurimi i sogni quindi da oggi aspettatevi un reel al giorno su instagram da Yoko Yamada aspettatevi uno spettacolo al metro cambio di direzione nei social Yoko sarà molto più presente adesso sì 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 no scherzi a parte effettivamente possiamo dire tu molto presente sul web ma non nei tuoi canali cioè nel senso ci sono andate sempre virali le tue cose ma mai messe da te esatto esatto perché non le hai messe semplicemente ma anche su tiktok vedo che sì gente che taglia vede come si entra la butta sul suo canale tiktok sì 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 e poi in realtà poi mi arrivano i follower su instagram sì no certo poi arrivano ma infatti a un certo punto secondo me su internet c'è che viene a lasciar fare vuoi andare un po' di cioè di più su assolutamente io qui lo dico e qui lo nego attenzione sarò una cosa detta tazza di caffè è una cosa vera per la vita è ufficiale è ufficiale no ma me l'ero già detto cioè mi sono detto Yoko adesso ti licenzi fai solo questo però vogliamo curare un po' anche i social non mette soltanto foto rita da piccola magari così te la butto lì no no lo farò lo farò ma invece giusto per la gente che si chiede sempre perché immagino te la chiedono tantissimo quanto c'è di vero nei tuoi monologhi uh sono andati a quella parte dell'intervista io ho una domanda ancora più scomoda poi in realtà ok io volevo solo però prima rispondiamo a questo volevo solo dare un attimo di contesto anche su tua madre cioè tua madre è Bresciana sì giusto e si sono conosciuti proprio sì sì quello che racconto nella parte del sessatore è tutto vero lui che viene qua dal Giappone e conosce la famiglia di mia madre perché non era il primo giapponese che faceva il sessatore a Chiesa Nuova appunto in provincia di Brescia era già il quarto il quinto non mi ricordo di preciso il numero cioè il primissimo che era andato aveva conosciuto la famiglia perché immaginatevi un giapponese negli anni settanta sul sagrato nel sagrato di una chiesa a Chiesa Nuova appunto anche il posto si chiama così e i fratelli e le sorelle di mia madre la mia famiglia è numerosissima la nostra sono in nove in tutto e quindi i fratelli e le sorelle più grandi vedono sto cinese gli dico ma tu sai fare con fu questo qua sapeva fare il salto mortale all'indietro si chiama salto mortale non salto all'indietro mortale perché sennò sai fare il backflame esatto questo sapeva fare questa cosa qua quindi lui lo portano a casa tipo clown però una dracone c'è un giapponese che sa il kung fu esatto esatto e quindi lui si affeziona alla famiglia era il primissimo e quando poi deve tornare in Giappone ma gli danno un cambio e questo dice la famiglia dei bianchetti è super carina la porta è sempre aperta e quindi ma dei bianchetti è una cosa razzista o bella questa giornata immagino che nessuno l'abbia mai detta mai addirittura mai la famiglia di mia madre esatto i bianchetti e quando è arrivato mio padre era già il quarto il quinto poi nel frattempo mia madre era era cresciuta cosa aveva 18 anni quando l'ha conosciuto il Gassette non mi ricordo e quindi sì sì tutto vero ok e scusa la tua domanda scomoda qual era? la mia domanda era quando poi che poi tu sì cioè tu hai iniziato poi cioè avevi già iniziato poi è uscito come di sempre ha fatto diciamo il botto quel video là eccetera ha iniziato a girare eccetera e tu già dall'inizio in realtà parlavi di tutto nel tuo spettacolo cioè non parlavi solo di il fatto che sei in mezzo a Giappone eccetera c'è stato un momento in cui a un certo punto hai proprio detto cioè ti sei accorta che certi motori televisivi eccetera volevano per forza che tu parlassi di quello e tu hai detto mi sono veramente rotta il cazzo adesso mi forzo di scrivere solo altra roba beh certo Alessandro ma penso che già in questa domanda c'era la risposta sì c'è sempre te lo dico c'è stato proprio il momento in cui ti sei accorta che stava succedendo e hai detto ok basta prendiamo un'altra direzione che tu già la stavi prendendo però dico prendiamola proprio in modo preciso oppure è venuto solo naturale oddio non mi ricordo il momento mollare quel tipo di consigli la e fare semplicemente raccontare quello che vuoi che è anche quello perché anche quello è parte della tua vita esatto sì allora diciamo che c'è stato un periodo in cui mi sono resa conto che mi si voleva un po' incanalare ma penso che questo rischio ci sia per per chiunque io mi ricordo infatti a un certo momento che se tu eri il oddio come si dice dimmi di più ho bisogno di un altro indizio non mi viene l'aggettivo per le malattie che ti senti ipocondriaco tu sei il nerd sfigatino io sono la giapponese nata nell'immigrato cioè io vedevo che ci si voleva portare su quello ma perché forse in tv si hanno bisogno di una cosa molto chiara e semplice esatto c'è ancora quella logica lì che devi fare un po' anche se non sei un personaggio devi essere un personaggio nella testa delle persone esattamente non devi essere non devi avere più dimensioni esattamente quindi io mi sono resa conto che cioè in realtà è stato è stato difficile ma forse lo ho ancora adesso perché se volessi appunto farmi vedere in tv mi rendo conto che cioè ci sta come primo impatto che tu fai vedere che sei un po' in quella scatolina lì il problema secondo me cioè la sfida è riuscire a far vedere che sei anche altro perché secondo me ci sta a iniziare così certo sì ti fai notare anche perché all'inizio uno ci sa non sa il tuo nome non sei famosa si ricorda la comica giapponese mezza giapponese mezza italiana che ci sta poi però è anche bello se non rimani quello per tutta la tua vita se riesci a far vedere che hai anche cose da dire esatto motivo per cui ho voluto continuare a scrivere cioè diciamo che effettivamente il mio il mio spettacolo integrale pizza sul gelato verte abbastanza non del tutto anzi forse neanche una metà un 50 e 50 quindi le mie origini il mio padre esatto che ce le infilo invece nelle cose nuove che sto scrivendo quasi per nulla c'è quella dimensione del io giapponese e sono io che parlo che ne so di quanto mi sta sul cazzo not in kill di io che la mia visione del mondo come si dice ho scritto un pezzo sul come risolvere il il cambiamento climatico e la cioè proprio tematiche che non non c'entrano con cerchi di espanderti anche a cose che interessano a te e questo sarà tutto nel nuovo spettacolo che stai preparando esatto esatto ci sto ci sto provando siamo vicini al nuovo spettacolo no in realtà allora cioè in realtà secondo me sono anche a una quarantina di minuti 30 minuti ok ma non mi convincono tantissimo per cui c'è ancora lavoro ci sta classico ci sta sì perché poi quando devi scrivere uno spettacolo non devi scrivere un'ora devi scrivere un'ora e mezzo e poi e poi tagliare anche di più di un'ora e mezzo ma come è stato all'inizio esplodere sui social su youtube con i pezzi di comedy central andare virale mi ha fatto molto piacere vedere che il ciotto è andato virale e tantissimi che mi hanno scritto le cose più disparate e tantissimi dicevano beh magari se non vuoi rispondermi mi accontenterò di un ciotto sì sì è stato bello te l'hai vissuta bene perché alla fine cioè non era ancora a livello in cui diventa secondo me un po' fastidioso che esatto sì ecco a proposito di staccarsi da quella scatolina ho voluto staccarmi anche un po' dal ciotto perché mi rendevo conto che era veramente diventato un tormentone ma così tormentone che mi è capitato soprattutto a Torino una serata che ho fatto al oddio come si chiama off topic no cioè sì ma Torino come di lounge esattamente grazie off topic ah ok sì perfetto è quello un pubblico pazzesco veramente una delle serate più belle però in quel pezzo lì mi sono mai esibita a Torino faccio anche il ciotto e la gente me lo te lo anticipava me lo anticipava c'era il coro un po' me lo anticipava un po' c'era il coro fantastico è stato tragicomico come diciamo spesso ogni tanto è anche bello fare un pezzo che la gente vuole sentire che fa l'effetto canzone che possono cantare l'alba chiara ma vuole anche vedere un pezzo che ha già visto ogni tanto vuole anche vedere un po' esattamente però non sei ancora arrivata per dire al livello in cui la gente te lo grida per strada o è successo questa è la faccia di una persona che è capitato è capitato capita Venezia qualcuno capita capita beh dai no dai all'inizio adesso almeno dopo che li fulmico lo sguardo la decima volta è bellissimo come ti sei permesso beh io ho avuto ce l'ho avuto perché in un pezzo dico che Star Wars è sopravvalutato e ho avuto delle persone però quello dopo lo spettacolo non in giro che mi dicessero allora tu sei un pezzo di merda Star Wars ma perché poi anche lì è impossibile accontentare chiunque ma proprio impossibile ma è ovvio ma è anche il bello di questa cosa un minimo deve essere divisi cioè non voglio dire che devi essere scomodo eccetera però una cosa fa ridere anche perché è divisiva e prende parte cioè prendi sì 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 è vero è vero è anche più interessante eh esatto però sì non esiste qualcosa che non immune alle offese di almeno una persona sulla faccia della terza cioè fa una battuta sui bicchieri dice chi stanno offendendo ti scrive quello che fa i bicchieri dice sei un pezzo di merda perché tu non sai il lavoro che c'è dietro nel fare i bicchieri ma io non intendevo sì no no ma assolutamente ma anche se tu fai una roba pesante su te stesso c'è qualcuno che dice ma guarda che io sono nella tua situazione ed è fuori luogo che ci scherzi ma è la mia situazione ma che cazzo vuoi a me una persona una volta mi ha scritto che è fuori luogo che io scherzo sull'ipocondria sull'ipocondria ma davvero perché l'ipocondria è una malattia ci sono persone che stanno malissimo sì anch'io ho capito io sono una di quelle e cerco di conviverci scherzandoci sopra madonna a me quindi a volte neanche su te stesso puoi scherzare la cosa che mi ha dato più facilità in assoluto è quando mi hanno criticato perché scherzavo sulla depressione e mi hanno detto guarda che non dovresti farci battute su questa cosa e ho detto è un problema che ho io è la stessa cosa e mi fa bene farci battute a me che ho questo problema cioè se tu stai difendendo me in questo momento cioè che senso ha sì 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 esatto va bene allora ultima domanda scomoda prima della domanda di reto perché una cosa che mi interessava non so se ne abbiamo mai parlato di questa cosa allora tu sei cresciuta da figlia di giapponese in Italia comunque con origini giapponesi e mi chiedevo hai avuto esperienze di razzismo di cioè di problemi di non so di persone che ti hanno trattata in modo diverso tra virgolette di integrazione no in realtà integrazione cioè o è sempre stato no infatti no in realtà zero e questo secondo me bisognerebbe aprire tutto un discorso su ma apriamolo Yoko apriamolo no nel senso cioè comunque il giappone è visto proprio come una cosa esoterica ma wow una cosa ah dragon ball ah il ramen il sushi con fascino ma non con disprezzo esattamente per cui in realtà da questo punto di vista sono anche secondo me privilegiata perché sì immagino che anche quando c'è un tipo di razzismo non è un tipo di razzismo tipo di tipo aggressivo che nel senso la gente è meno pericoloso e magari è fastidioso e magari è fastidioso perché la gente ti dice ah saprai il confu perché sei giapponese sì esatto cliché ma mai cioè come dire cioè volevo riparare a dire che mio padre è un immigrato di serie A e ci sono immigrati di serie B per cui in realtà da quel punto di vista non ho subito bullismo ok 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 questo ecco ok anzi anzi curiosità ovviamente immigrati di serie A di serie B questo parlando secondo le persone razziste certo non che secondo noi esistono esatto esatto che nella testa dei razzisti grazie della precisazione esatto esatto nella testa di un razzista ci sono gli immigrati di serie B e gli immigrati di serie A esattamente quindi tu non hai avuto ma anche a scuola no c'era solo proprio curiosità se andavamo in gita e tutti avevano il panino e la con la mortadella e io avevo gli onigiri quindi ma dai i paninetti di riso a volte nell'alga ma quindi mangi anche l'alga oddio però sì perché poi erano anni prima del fatto prima che diventasse prima che scrivi la cucina bravissima il sushi è proprio esatto e quindi prima lo vedevi soltanto nei cartoni animati e tra l'altro c'è stata anche l'esplosione degli anime nel mentre quindi anche quello adesso la gente è veramente super affascinata dalla cultura giapponese una cosa che mi fa sempre sorridere è che tantissimi quando mi conoscono o che mi scrivono insomma mi dicono questa cosa come se mi sembra veramente che me la dicano o me la scrivono come se fossero tra i pochi a dirmi questa cosa qua e questa cosa è cioè io adoro il giappone io vorrei fare un viaggio in giappone la cucina mi piace tantissimo ma proprio la cultura sì perché sono così diversi ma così affascinanti questa cosa della natura e si sentono dei pazzi stranissimi gli unici in italia che hanno questa cosa no te lo dico io adoro il giappone no guarda non ci crederai ma io ma siete dei pochissimi che mi dice che adoro il giappone voglio fare un viaggio in giappone però è vero ora che ci penso la cultura giapponese è quella che più affascina in occidente forse perché c'è stato un po' il fatto che la cultura giapponese a me è sempre sembrata un mix tra cultura orientale poi per la storia che c'è stata gli americani dopo la seconda guerra mondiale ha un po' di occidentale quindi c'è un po' di sì è vero sì perché poi c'è il particolarismo nipponico tipico della cultura nipponica che è poi sempre riadattarsi e ricreare una cosa nuova in base alle influenze nuove ho dato un esame di storia dell'asia e qui si vede e qui si vede si vede e io ho dato un esame di storia contemporanea e qui si vede stiamo unendo però si mi fa sorridere perché questa frase ci sta se al posto del giappone come metti azerbaijan altrimenti esatto altrimenti è come è come è come andare la jk rowling e dirgli allora harry potter mi ha cambiato la vita io ti sto ah cioè so che ti sembrerà strano ti ho interrotto per dirti so che stai pranzando ma dovevo dirti perché immagino ti faccia piacere sapere quanto sei stata importante per me dice sì tipo per qualsiasi altra persona della tua generazione della generazione in questo pianeta quindi quindi il miliardo di euro che ho guadagnato era solo grazie a te ok meno male grazie sono contenta mi sono venuta la più ricca della generazione c'era anche c'era anche una battuta di the onion su questa cosa c'era tipo jk rowling che si rompeva il cazzo per l'ennesima persona che diceva mi hai cambiato la vita non mi ricordo com'era il titolo ma era su questa cosa però bello e ok adesso anche altra cosa che io dico sempre poi se vuoi la tagliamo in montaggio però invece sul fatto della tua sessualità di essere lesbica sì di essere lesbica no in realtà anche lì per fortuna domanda qual è? domanda sempre su guardaci del fatto che sei lesbica come essere lesbica no il cioè il fatto di ah di discriminazione sì di discriminazione giusto di come te la sei vissuta anche durante tra virgolette adolescenza perché già tu avevi questa cosa di essere tra virgolette diversa dalla maggior parte delle persone per le origini quindi sì no in effetti mi rendo conto mi dice anche la mia psicologa rendi conto che sei veramente una cosa cioè mezza giapponese ma anche lesbica sì effettivamente fa parte anche quello del mio sono tutte piccole sfide quotidiane che devi affrontare nel mondo occidentale esatto esatto qual è la domanda? no sì l'essere lesbica insomma sì se quello ti ha dato cioè come te la sei vissuta nel nel giudizio degli altri nelle no in realtà allora penso che come la maggior parte delle storie di persone che a un certo punto fanno coming out ti senti veramente di ah ok io sono sono questo una volta che ti accetti di essere questo e te la vivi serenamente passi magari anche sopra a a commenti oddio commenti proprio magari anche situazioni mettiamo anche così politiche che non ti stanno bene ma che comunque tu sai di non essere nell'errore o di insomma di viverti la tua vita serenamente tu l'hai accettato presto ma allora intanto io ho una storia super bizzarra perché no 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 non bizzare tazza di caffè è il posto adatto è il posto adatto per raccontare questa storia mi rendo conto che ho fatto un percorso opposto a quello che fa di solito la maggior parte delle persone che scopre di di avere una di non essere etero banalmente esatto queer in tutte perché ovviamente in un mondo ideale non c'è una cosa di base che è essere etero viviamo poi in una società che è ancora eterocentrica quindi comunque esattamente come si dice eteronormata eteronormativa ho detto eterocentrica ma penso di averlo inventato in questo momento esatto da oggi si dirà eterocentrica ecco insomma rispetto alle persone queer a 360 gradi che a un certo punto fanno coming out o non fanno coming out insomma quello che voglio dire è io prima ho fatto coming out e poi ho iniziato a frequentare ragazze di solito tu fai esperienze e dici ok sono questo io invece lo sentivo e l'ho fatto anche tardissimo perché avevo 24 anni tardissimo cioè rispetto alla media e sei stata con ragazzi prima? allora questa è la parte che tagliare no 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 non c'è problema tu dimmi quando io chiedo poi se c'è una cosa che non vuoi parlarne a me affascinano queste cose i miei primi fidanzatini all'elementari ok poi sono uscita con un ragazzo che non mi ricordo quanti anni avevo so che facevo pianoforte ho fatto pianoforte per qualche anno ok mezza asiatica mica per niente e non sapevo che cosa c'è devo dire ah no in realtà io sì c'è il cliché degli asiatici che suonano il pianoforte ti mancava vero? sì sì no io ce l'ho ah no sei serio no in generale ero serio ma in realtà ho realizzato che invece adesso mi sono ricordato una delle primissime notizie di Lercio perché io ero l'attore di Lercio della vecchia guardia è vero era tipo India non mi ricordo se era India come un paese dell'Asia era bambino nato con sei mani si rifiuta di suonare il piano una cosa del genere vedi sì no diciamo che sì c'è sto cliché quindi forse era per quello il cliché in Asia che sei bravo cioè negli strumenti musicali soprattutto in matematica strumenti musicali in matematica e a fare cioè che poi i genitori vogliono che fai il dottore c'è anche questo ok questo ce l'abbiamo grazie agli stand-up comedian sì ma in effetti no strumenti generali strumenti musicali in generale il pianoforte tanto mi vorrebbe da dire ok non lo sapevo e comunque ok comunque dopo se vuoi chiudere la puntata facendo vedere a tuo padre che hai servito per fare le lezioni qui abbiamo un bellissimo pianoforte in realtà anche quello grande e disonore per me perché l'ho fatto per cinque anni lezioni di piano poi a diciott'anni mi sono trasferita cioè sono undici anni che non ho più il mio pianoforte a muro che avevo che ho nella casa dei miei a Brescia per cui se lì ogni due tre volte a settimana mi mettevo a strimpellare adesso ho perso tuttissimo comunque queste frequentazioni l'ultimo ragazzo cioè l'ultimo effettivamente togliendo quelle delle elementari togliendo quello di pianoforte ma tipo che e se non vorrei dire una cavolata ma non c'era stato nemmeno un bacio quindi stiamo parlando proprio che sai quando le elementari ci mettiamo insieme sì no manina ti dai la manina ma a volte c'è già quello sei già in terza base esatto e invece l'ultimo l'ultimo ragazzo diciamo prima di realizzarlo e di fare coming out quindi questo questo Pietro che saluto se casualmente ci stessi guardando questo Pietro io lì facevo l'animatrice per i bambini insomma mi frequento con questo ragazzo ma proprio un paio di mesi e però mi piaceva tanto cioè o meglio allora lui intanto biondo occhi azzurri ho detto il top del sciogno cioè perché comunque nel mio immaginario anzi ma io mi ricordo ancora che alle superiori studiando francese e tedesco comunque sono appassionata di lingue e io mi ricordo a un certo punto della mia vita ho detto io mi sposerò con un tedesco andremo a vivere da qualche parte in Europa e poi avremo dei figli gemelli perché poi sono anche come si dice sì mi piace l'idea in realtà non penso che avrò mai figli però il concetto dei gemelli è interessante ok insomma tra l'altro mio padre ma voi siete nove fratelli e sorelle da parte di mamma da parte di papà sono in tre e due miei cugini sono gemelli ah ok ok c'è quella cosa che salta la generazione che però se c'è in famiglia è probabile che esatto quindi tu avevi questa insomma questa sì capito io prima ancora di capire di essere lesbica avevo questo e quindi compare a questo Pietro e lui era presissimo da me ma però io mi rendevo conto che non ero presa da lui ma come mai ok ma come mai è tutto quello che voglio in teoria esatto teoricamente dovrei essere la persona più felice del mondo sulla carta avevo fatto bingo capito sì ma mancava qualcosa però lui era carinissimo io avevo 17 anni lui 23 me lo ricorderò sempre perché con questi 6 anni di differenza lui era il ragazzo maturo gentile promuroso ho detto Yoko ma è top cioè cosa perché non ti sta piacendo mancava qualcosa o c'era qualcosa di troppo ogni tanto devo farle queste cose per toglierme le date vai avanti e no insomma e lì infatti quindi mi ricordo questa cosa straziante in un certo punto ho detto guarda mi dispiace ma io vedo che tu sei preso da me ma io non è non è altrettanto per me per cui mi sembrerebbe di prenderti in giro se continuassimo e mi ricorderò per sempre l'espressione che lui fece andando via con la sua auto cioè lui mi ha detto il mio numero ce l'hai se cambi idea ti senti scrivimi e da quel giorno non l'ho più rivisto ma mi ricorderò sempre questa espressione mentre se ne va con l'auto possiamo approfittare di questa occasione per dirgli non è stata colpa tua non era non è la colpa di nessuno questa cosa è succeduta non è basta succede non eri tu ero io comunque ecco è stata benissima ma sì era proprio quello che mi viene a prendere in auto sotto a casa va conosciuto i miei cioè tipo piacere piacere anche perché mia madre fa quindi questo ragazzo ha 23 anni no ok mi ricordo che una volta siamo usciti a Brescia c'era mio fratello che anche lui era fuori con gli amici a Brescia in centro ecco se ecco tu chiami tuo fratello che ti viene a prendere se vedi che non ti va più la situazione non so in che bar andate e niente poi io c'è questa costanza delle frasi dei genitori quando parlano i figli e non vogliono entrare troppo se una volta vedi che questa frase se una volta vedi che generico generico intendi tu chiamaci anche se magari hai fatto una cazzatuccia e se vedi che queste frasi con questo tono esatto le abbiamo sentite tutte sì no lì avevo ancora 17 anni poi il nulla cosmico ma anche perché venezia comunque non è una città perché tu hai detto io sono già stata in altissimo quindi nel senso tutte le persone che conoscono devono vedersela con pietro che non ha vinto non arriveranno se io non provavo per lui vuol dire che non e invece bastava la figa per dire che invece la cosa era semplicemente no poi in realtà appunto 17 anni a 18 mi trasferisco 18-19 insomma per l'università mi trasferisco a venezia lì lo capisco lo capisco perché ma proprio banalmente giravo per strada guardavo solo ragazzi avevo come un filtro per i ragazzi ho detto cazzo ma qua no vabbè sono lesbica e tu quando l'hai capito cioè come te la sei vissuta questa cosa cioè nel senso tu quando hai detto ah sono lesbica eri spaventata eri affascinata e mi ricordo che all'inizio non l'avevo tanto accettato mi dicevo no ma veramente ma no ma dai è una fase e però ero troppo convinta tant'è che poi volevo anche ma poi c'è scusa è mai stata una fase per qualcuno cioè perché c'è questo cliché è una cosa che hanno inventato è una cosa che hanno inventato gli omopoli ma no ma perché in realtà magari se pensi alle persone bisessuali magari adesso adesso dico una cazzata no effettivamente non bisessuali ma pensa effettivamente a a un essere queer a un essere fluido ok se sei fluido effettivamente poi magari finisci con la tua vita in una relazione monogama con un ragazzo con uno dei due sessi di un sesso piuttosto che l'altro e quindi capisci che magari hai più no sai quella cosa che ti innamori più della persona che del sesso però magari cioè non so forse perché sto pensando ad una mia amica che è lesbica si definisce lesbica però non ti sdegna il cazzo che per me è una roba super ma no in che senso ma lo senti perché io stessa perché poi c'è questa difficoltà cioè e io stessa faccio a volte fatica a io voglio etichettare effettivamente le quelli che danno nome alle cose e dicono ascoltate se sei lesbica è umano comunque avere bisogno di questa cosa sì ma c'è chi si trova bene a dare etichette e chi invece si trova bene a dire io semplicemente faccio quello che mi sento di fare esatto 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 gold star gold star mi sa che si dice credo gold star credo che sia una cosa odiatissima nella comunità lgbt si nasconde dietro al microfono non le persone che c'è tipo no in realtà io so metterla come una cosa in più esatto esatto io so che dei gay cioè delle persone ho conosciuto delle persone gay che erano fierissime di essere gold star e dicevano esatto no insomma cosa stavo dicendo quindi no lo capisco lo accetto però non conoscevo nessuna e ho detto qua devo per forza andare di app ma vogliamo spiegare cos'è gold star alle persone che non lo sanno infatti scusate quindi una lesbica che non è mai stata con con un uomo con un uomo o il contrario un uomo che non è mai stato con una donna ah quindi anche per i gay sì sì anche se in realtà c'è la famosa battuta di Andrew Schultz che dice se sei stato partorito purtroppo non puoi essere gold star perché una vagina l'hai vista mi dispiace comunque quindi da lì l'hai capito lo capisco mi voglio iscrivere ad un'app però mi faceva strano che insomma essere su un'app ma che le persone a cui tenevano più non lo sapessero ma non soltanto la famiglia anche le mie amicizie più strette perché lo sapeva veramente una manciata di amici ristrettissimi ma non tutti per cui ho detto senti io prima lo dichiaro e poi e quindi lì ho fatto coming out mi sentivo più rilassata a vivere la mia vita anche sui social e quindi mi sono iscritta e poi figuratemi una volta che mi sono iscritta Wapa non Tinder Wapa ok sì funziona uguale però è il Grindr delle lesbiche ok ma che perché vuoi Grindr è solo per i gay credo di sì ok io pensavo se gay è lesbica adesso mi fa venire un dubbio io ho stato soltanto Wapa per un periodo anche Tinder mi sembra ok e lì no figuratemi si è aperto un mondo per cui lì ho iniziato a uscire con delle ragazze e è stata se vogliamo la conferma ecco ok perché mi capita che quando lo racconto qualcuno mi dica quindi cioè tu hai fatto prima ancora di fare esperienza faccio sì sì ero troppo sicuro e infatti poi beh è bella questa cosa che ce l'hai capito già da te ok dai io direi che possiamo passare alle domande di rito abbiamo fatto un'oretta e le domande di rito che facciamo a tutte le persone che passano da tazze di caffè cara Yoko sono queste vale le vuoi cimentarti ti lascio l'onore perché ogni volta sbaglio a fare le domande no ma in realtà io non so fare queste domande in realtà sono difficili da formulare e da capire e lui è semplicemente un po' meglio di me non è che lui escono benissimo non è che gli miei escono perfette però queste domande sono allora potreste vi do un'idea passa le scrivi su quel pc dove presumo tu stia leggendo qualcosa o è tutta una finta così la puoi leggere ogni volta ma tu hai ragione sì ma ormai la gag è la nostra difficoltà a dire queste domande quindi è bello anche per gli ascoltatori vederci soffrire mai e allora le domande di rito sono concentrati una cosa parlando di cultura pop ma anche in generale se riesci a stare sulla cultura pop sull'intrattenimento meglio una cosa che a tutti piace ma tu non capisci perché non capisci l'hype che ha e al contrario una cosa che a nessuno piace e tu non capisci la brutta reputazione che ha lo zucchero a velo lo zucchero a velo mi fa cagare la gente lo mette ovunque e se mi rende conto che non è nella cultura pop però sul cibo si trovano molto lo mettono ovunque lo metto sì è vero che anche io non sono un grande fan io mi ricordo che lo zucchero a velo ti piace quando sei bambino e chiedi di comprartelo ma semplicemente perché ti senti quasi in dovere di dire a me piace assolutamente lo zucchero a velo e che devo chiedere a mia madre di comprarmelo poi in realtà cresci e dici in realtà non mi è mai piaciuto neanche quando ero bambino ma lo zucchero a velo non ti stai confondendo con lo zucchero a velo sai che forse questa parte la tagliamo perché chiedi di comprarlo per quello dicevo per quello dicevo com'è che ovunque allora questa cosa la teniamo e censuriamo la io ho bestemmiato apposta perché ho detto noi siamo costretti a tagliarla no 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 noi mettiamo un bellissimo beep e teniamo questa parte certo ok ma no immagina quindi lo zucchero a velo chiaro che lo zucchero a velo non è lo zucchero a filato che è assolutamente dappertutto e io non chiedevo a mia madre di comprarmelo e ora possiamo ripartire no scusate siamo a Natale Pandoro no no hai ragione hai ragione no però sul Pandoro ci sta sul Pandoro ci sta Madonna certo che ci sta non ci sta per un no Pandoro senza però con la crema con la crema con la come si chiama la crema al mascarpone eh con quella lì no allora io dovete capire che ho questa cosa qua sul cibo le cose devono essere equilibrate tipo Pandoro con mascarpone no il mascarpone su un pezzo di pane su un grissino su una cosa neutra perché è già molto dolce di per sé e il Pandoro è comunque molto dolce ma lo zucchero a velo attenzione non è che se tu mi fai una torta e nella ricetta c'è lo zucchero a velo piuttosto che lo zucchero ti dico non metterlo per me è assurdo aggiungerla a una cosa già dolce come quando vai a prendere un croissant vuoto sopra perché è già zuccherato quellino mi piace sono d'accordo e in più io la cosa potrei essere anch'io d'accordo su tutto tranne che sul Pandoro su questa cosa no 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 tremendo potrei non mangiarlo se c'è lo zucchero ma sullo zucchero filato lo mettereste vaffanculo ok vaffanculo anche perché noi abbiamo tagliato la parte prima giusto quindi le persone non capiranno nessuno saprà di cosa sto parlando non promettimi che bippi solo la bestemmia assolutamente sì comunque in realtà anche lo zucchero filato mi ricordo che secondo me l'ho assaggiato per la prima volta da grande non era una roba che andavamo nelle fiere e me lo compravano e mi ricordo ancora che la sensazione è strana perché ti si scioglie subito no adesso stiamo parlando di zucchero filato ok voi volete per forza che noi lasciamo ho detto zucchero filato ok voi volete per forza che noi lasciamo questa parte vai avanti parlane così la dobbiamo tenere parliamone tanto così poi tagliamo tutto il blocco no e visto che abbiamo citato il pandoro una cosa che invece fa schifo a tutti o meglio non che fa schifo a tutti lo so la domanda non era riferita ai cibi ma non mi viene in mente nulla no no ci sta ma molte persone viene sul cibo però immaginatevi il pandoro tu tagli la fetta quale parte mangi prima del pandoro io all'esterno sì anch'io perché cioè io mangio perché ti piace un pochino meno poi ti lascia la cosa ah io in realtà no allora in realtà mi devo collegare a quello che hai appena detto perché mi piaceva che c'è lo zucchero eh esatto esatto c'è lo zucchero filato quindi dubito che ci ritroveremo in quello che sta a velo e quindi io mordo fuori perché c'è lo zucchero che è buono e poi lo unisco col dentro chiarissimo no io adoro il culo del pandoro è bella se la tagli mi piace tantissimo cioè anzi io quando lo taglio mi nascondo se posso non far vedere questa cosa io nascondo la parte sopra quella è mia deve essere tutta mia la parte però aspetta l'esterno tu lo tagli in orizzontale o in verticale io taglio in orizzontale e quella la prendo io ok e poi taglio il culo e quello rimane un pandoro monco che io però taglio a ortagonale a stellino e nessuno si è corso di nulla cioè tu ti rubi le parti più buone e poi lasci il resto per gli altri più buone ma per chi per me in solito la gente tu ti sei inventata che agli altri non piace per giustificare il fatto che tu ogni volta sottrai al pandoro io lo faccio per voi ragazzi perché vi tolgo la parte che non mi piace esatto esatto ma noi non dispiace stai zitto allora ti tolgo la parte certo certo ok io in realtà volevo aggiungere solo sullo zucchero a velo che io essendo cioè mia madre pugliese io vado spesso giù in Puglia e non so se voi sapete che in Puglia le crepe le crepe alla nutella le fanno diverse le fanno croccanti e senza zucchero a velo e quindi io ma come croccanti come fai a renderlo croccante senza zucchero a velo è il suo sogno sì sì e sono la fine del mondo e a me invece quelle che fanno qua che sono un po' mosce e ci mettono sopra lo zucchero a velo non piacciono ma come lo rendi croccante eh non lo so ma fanno l'impasto diverso lo cuociono di più non so bene come lo fanno ma te la danno che la tieni in mano ed è una a me piace da morire e quindi io ogni volta litigo con la gente del nord perché gli dico lo zucchero a velo sulla crepe fa cagare e mi dicono no sei un terrone e quindi ho questa cosa e volevo dirla per tutti crepe del sud vincono mi dispiace non è solo cioè no sicuramente in Sardegna non si fanno non sono come le fanno le crepe non sono croccanti penso come nel resto d'Italia a parte la Puglia forse io so che al sud le fanno credo che croccanti sì le fanno un po' più io però non sono un grande esperto quindi come al solito potrebbe essere che qualche sardo dice ma sono croccantissime non lo so ok quindi aspetta l'altra cosa era lo zucchero a velo lo di quello che ti piace è l'esterno del pandoro esatto l'esterno del pandoro ok era tutto molto collegato un'altra cosa che non mi piace ma alle persone di solito sì la luce se ci pensi ti piace o non ti pensi? la luce che non è sopravvalutata cioè se io mi devo lavare i denti cioè io preferisco la penombra in generale ok nella vita proprio per dire per farti capire quanto mi si è fulminata ho due lampadine a venezia nel bagno ce n'è una normale in alto fa una luce dignità tranquilla abbastanza fiocca ma ok e poi c'è un'altra che è quella dello specchio un po' che ti spara flash io quella la odio ci si è fulminata o meglio è una cosa che a volte funziona a volte no la luce quella un po' fiocca io piuttosto che accendere quella lì forte accendo quella del corridoio e lascio ho un pochino aperto la porta ma dai io non mi piace tanto la luce forte ti dà fastidio si odio la luce ho iniziato solo ciò che ci ha dato l'esistenza e il sole il sole anche un po' ho iniziato a a venezia andare in giro con un ombrello d'estate ah dai per completare il cliché dell'asiatica questo questo c'è questo cliché c'è e evidentemente è un cliché allora che nasce perché in realtà loro mi sa che in Asia lo fanno per non vogliono abbronzarsi si è quello io perché preferiscono ammettere io da quando appunto ho iniziato a lavorare in boutique al beauty e quindi ho scoperto che bisogna lavarsi la faccia e non solo ma proteggersi dai raggi solari perché sono malefici quindi devi mettere la protezione solare d'estate e non solo se vai al mare tutti i giorni certo e però poi io non mi piace mettervi tanta roba in faccia non l'avreste mai detto immagino che mi vedete sempre truccata e quindi mi sono state a girare con un ombrellino ma sono molestissima perché immaginatevi le calli di Venezia strette non bastava un cappello molto particolarmente grande ci ho pensato ma mi faccio cagare col cappello però sì è una questione di stile con l'ombrellino hai anche perché Alessandro come mi vesto io sempre in tuta super sportiva col cappello Audrey Abel cioè che cazzo è per cui piuttosto l'ombrellino in effetti è vero stonerebbe un po' stonerebbe un po' dove vado comunque ottima risposta la luce mi piace un sacco sono contenta bello perché in effetti il sole ha un bel po' di hype che tu stai dicendo non dovrebbe averne però ne ha un bel po' c'è gente che lo venerava quindi nel senso eh no esatto secondo me è una cosa pop che io disdegno venerare il sole saluta il sole ok bene però parlare di pandori e crepe mi sta facendo venire fame quindi io direi che possiamo chiudere e mangiare benissimo quindi Yoko noi ti ringraziamo molto per essere venuta grazie a voi se c'è qualcosa che vuoi annunciare date sarai più attivo sui social quindi seguitela su Instagram ha fatto questa promessa probabilmente la seguirete scoprirete che in realtà non è più attiva scrivetele avevi promesso così lei si convince ci sto si convince prima o poi noi diciamo vi chiediamo di venire alle prossime date lo facciamo in questo modo qui ok ci doppiamo perché non sappiamo adesso ci doppieremo il 9 febbraio siamo allo ZELEG di Milano piuttosto seguiteci su Instagram cioè le date le mettiamo tutte là tanto perfetto seguiteci su tutti i social iscrivetevi al canale ragazzi grazie di averci seguito ciao a tutti ciao buon 2023 a tutti